Per chi non lo sapesse con Andrea Soffientini, i link li potete trovare qua sopra, il cane però, il cane non ci posso far niente, il cane abbaia, quando abbaia... Ciao ragazzi, sono Massimo Milani, siamo giunti all'ennesima puntata del nostro canale, oggi vi parlerò di alimentazione. Per diversi mesi ero indeciso se parlarne, io non sono un medico, non sono uno specialista, ma grazie a SIS, con cui collaboro da qualche settimana, abbiamo deciso di utilizzare le più recenti e moderne tecniche di alimentazione per discutere di come l'alimentazione possa essere utilizzata come un vantaggio per il podista amatore. Per chi non lo sapesse, chi fosse giunto appena adesso al canale, io sono Massi, sono un podista amatore, ma soprattutto un manager, sono diventato famoso, tra virgolette, per essere arrivato primo italiano alla Maratona di New York nel 2019 e soprattutto per aver vinto diverse gare di categoria a livello italiano e mondiale negli ultimi tre anni. A partire da oggi vi accompagnerò settimanalmente in un percorso di preparazione a livello alimentare per la Maratona di Milano. Per chi non lo sapesse, già da quattro settimane, con Andrea Soffientini, vi sto dando dei consigli per la preparazione della mezza maratona della Maratona primaverile. La lista delle principali puntate da qui alla Maratona di Milano la potete trovare in sovraimpressione alla fine del video. Nella prima puntata vi parlerò di come affrontare il lungo del weekend a livello alimentare, lungo che, secondo il mio modesto parere, può essere di due ore, due ore e mezza. Dal punto di vista analitico ci sono fondamentalmente tre domande. Cosa mangiare prima, durante e soprattutto cosa mangiare dopo il lungo. Suppongo che siate dei podisti amatori, principianti o evoluti e che comunque utilizzate il lungo per affrontare al meglio la preparazione della Maratona. La mia trattazione ovviamente non è esauriente, ma è solo sintetica. Il mio consiglio è leggere il libro Advanced Maratoning per chi volesse approfondire in dettaglio i consigli di alimentazione, ma in generale di preparazione alla Maratona. Dal nostro punto di vista però cercheremo di raccontarvi in maniera semplice che cosa fare. Prima dell'allenamento lungo del weekend il consiglio è ovviamente fare colazione. A me è capitato di correre una Maratona a digiuno, sinceramente non lo rifarei e non lo consiglio a nessuno. Il consiglio invece è di fare una colazione normale, quella a cui siete abituati, questo per consentire di non dare al corpo ulteriori stress. Ovviamente chi avesse problemi di digestione suggeriamo di fare colazione molto prima di effettuare il lungo, almeno due ore prima dell'allenamento. Parlerò nelle prossime puntate di come effettuare un allenamento a digiuno e quali sono le conseguenze per il vostro corpo. Per i lunghi, ripeto, non lo consiglio. Veniamo invece a cosa mangiare durante il lungo settimanale. Qui dal mio punto di vista ci sono due strategie, la prima per il podista principiante, la seconda per il podista evoluto. Sappiate che una delle ragioni per effettuare un lungo è simulare la gara, quindi il mio consiglio, soprattutto per il principiante, e in allenamento prendere un gel isotonico ogni 30-40 minuti, quindi 3-4 gel. Questo lo farei per due ragioni. Da un lato il gel fornisce energia e aiuta a non svuotare le scorte di carboidrati e di glicogeno muscolare. Inoltre, essendo un gel isotonico, è molto liquido e contribuisce all'idratazione. Il gel isotonico si assume senza acqua e di conseguenza non avrete nessun problema di digestione. Un'altra strategia consiste nel migliorare la vostra potenza lipidica. Il nostro suggerimento è quindi fare una settimana provando i vostri gel e in un'altra settimana non mangiando nulla, cercando però di fare una colazione abbastanza abbondante. Per quanto riguarda il dopo lungo, dipende secondo noi da dove siete. Se avete fatto in lungo una gara, probabilmente non sarete in grado di assumere alcun cibo che non sia quello offerto dall'organizzazione, in tal caso vi consigliamo quantomeno di assumere delle proteine. E' ben conosciuto il fatto che le proteine vi consentiranno di velocizzare il recupero. Dal mio punto di vista, le Wave 20 sono assolutamente fondamentali, mi capita spesso di essere via per lavoro e subito dopo l'allenamento le assumo per cercare di recuperare il più rapidamente possibile. Da qualche settimana ho provato un prodotto SIS che si chiama Rego Rapid Recovery, prodotto a base di carboidrati e proteine che consente di innescare subito il processo di recupero e di ricostruzione muscolare. Contiene inoltre vitamine e sale minerali per un recupero a 360 gradi. Bisogna sottolineare che Rego, nonostante dia subito una sensazione di sazietà, non è assolutamente un sostituto del pasto, ma è solo un integratore che sfrutta questa fase di assimilazione per fornire nutrienti che entrano in circolo molto rapidamente. E' quindi fondamentale pranzare e cenare come d'abitudine. Spero che il prossimo lungo possa essere facilitato da questi consigli. Io ora vado a correre per la seconda uscita giornaliera, spero che questo video vi sia piaciuto. Se avete delle domande è sempre qui sotto, non dimenticate di iscrivervi per avere ulteriori consigli settimanali. La prossima settimana cercherò di raccontarvi come alimentarsi nel medio. Per ora è tutto, ciao alla prossima, ciao!